o la strellita io sono sophie e lei e mami insieme siamo la luna benvenuti e benvenuti in questa bellissima giornata di estate noi fra pochissimo andremo a farci un bel tuffetto in piscina e voi cosa state facendo strellitas senti sophie dai non perdiamo tempo io intanto vado di là a mettermi il costume tu sei quasi pronta e ci vediamo dopo finisci la tua colazione ok ciao 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 ci vediamo dopo ok strellitas ora io finirò la mia bellissima e buonissima colazione allora come frullato si ho questa buonissima anguria e strellitas però mi fate compagnia per favore assaggio mmm è buonissimo a voi piace l'anguria a me tantissimo mmm è buonissimo ma mi sento un po' strana molto più felice del solito voglio fare la pazza e buonissima Bolle in abundanza! Yeah! Baby shark do 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 Baby shark do 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 Baby shark do 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 Mommy shark do 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 Ma che succede? Cos'è questo Kung Fu? Che c'è mamma? Mi guardi come che sono un fantasma che fluttuo Ma ma Sofì tu non ti rendi conto sei 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 se tu tu sei 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 un cartone animato! Un cartone animato? Ah che bello scherzetto ti faccio così ridere? Ma Sofì non sto scherzando veramente tu hai la faccia di un cartone animato Cioè la faccia ma che cosa hai fatto? Come hai fatto a diventare così? Che cosa hai fatto di strano questa mattina? Eh ho bevuto il frullato di anguria E chi te l'ha dato? Papà Papi! Papi vieni subito per favore Che c'è da orlare come una pazza? Arrivo! Eccomi! Cosa c'è? Anche tu! Ma guarda tua figlia! Guardatevi in faccia uno con l'altro che siete due cartoni animati! Non siete più reali! Ma... 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 ma tu chi sei? Come? Io sono Sofia e tu chi sei? Ma... io sono il papi! Non vi riconosco siete due cartoni! Ho perso la mia famiglia! Ma che cosa le hai dato da bere? L'hai preparato tu quel frullato di anguria? Non so cosa c'hai messo dentro! Ma... era un semplice frullato di anguria! Ma quell'anguria da dove l'hai presa? L'ho presa dall'orto del nonno! Dall'orto del nonno? Oh mamma mia! E adesso cosa facciamo? Ma... eh... non lo so! Sembriamo usciti da un cartone animato! No! Questo è un incubo! Mi sento male! Mi sento male! Oh no! La mamma è svenuta! Oh no! Quasi quasi la lascio così! No scherzo! Che cosa facciamo? Io chiamo il dottore! Però dalle qualcosa da bere! Non ti preoccupare! Lo farò! Pronto! Dottore! Ho un'emergenza! Mia moglie è svenuta! Presto! Dovete venire alla casa della Slunas! Aiuto! Mami svegliati! Che succede? Niente! Sei svenuta! Ora devi bere questo... Ah sì! Grazie! ...con gli zuccheri per recuperare... Per svegliati! ...per svegliati! Mi sento meglio! Ma che mi hai dato da bere Sofì? Ma questo non diventerà mica anche io come voi due! Un cartoon spero proprio di no! Oh oh! Oh no! Ti stai trasformando in cartoon! E' vero! Però è più bella così! Vero! La teniamo? Sì! Cosa state dicendo? Che mi sono trasformata? State scherzando spero! Non ditemi che davvero siamo diventati una famiglia di cartoon! Ma mamma non ti preoccupare! Ce ne dobbiamo approfittare! Vagliamo e cantiamo! Ci divertiamo? Viva che siamo dei cartoni animati? Sì! Ok! Ma quindi papi! Fin quando rimandremo così? Non lo so! Però abbiamo mangiato l'anguria! C'erano i semini! Ma forse fino a quando non faremo la cacca! Forse! Forse! Ma cosa dice il papi? Comunque speriamo che vi sia piaciuto questo video! E streguitas amici e amiche! Iscrivetevi e cliccate la campanella! Sì! Lasciateci un mi piace! Anzi! Tanti mi piace! Già! È arrivato il momento dei saluti! Già! Dobbiamo salutare i nostri amici! Come per esempio... Cenerentola! Cenerentola! Biancaneve! Cenerentola! Esatto! Poi anche i Pokémon! Dragon Ball! Ehm... Hulk! Superman! Spiderman! E ovviamente salutiamo tutte le principesse Disney! E soprattutto anche voi! Le nostre estrellitas! Sì! Le nostre stelline! Ehm... Anche Hello Kitty e Minnie! Giusto! Ma cosa succederà nel prossimo video? Pensate che riusciremo a tornare normali? Essere umani? O dovremo rimanere per sempre come dei cartoni animati? Boh! Guardate i prossimi video e lo scoprirete! E adesso tanti besitos! Besitos! Ciao! Adios! Ciao amici! Vi saluto anch'io! Ma non con i bacini! Vi mando tante pernacchiette! Ciao! Ciao! Adios! Ciao!